Milano 28 maggio 2015, Arco della Pace, prima e sede Rai Dopo. Una bella manifestazione, un flash mob come tanti altri in tutta Italia. Sono gli insegnanti vestiti di rosso con un libro sul cuore, simbolo della trasmissione della cultura, con la passione della loro professione, quelli che Gilda TV incontra nelle piazze delle varie città. La marea rossa degli insegnanti che trova la forza di reagire, di rivendicare l'orgoglio di appartenenza alla categoria, di ribadire il compito educativo e formativo che svolgono, il rosso come scintilla per coinvolgere tutti gli italiani a prestare attenzione al futuro delle nuove generazioni. Sì, perché il futuro di un paese passa dalla scuola e non si può sbagliare. Un errore sarebbe fatale, è questo che hanno ribadito come se fossero in classe a spiegare una lezione tutti i rappresentanti sindacali di associazioni durante l'audizione al Senato di questa mattina. Quanto questo qui assume la zia, la nonna e la cugina? Faccio per dire. Oh, la zia, la nonna e la cugina? No, esatto. Non lo vorrei visto i famigli di sede della città. Attenzione che sta per partire la panela. Sì, no. Ok. Stai firmando? Non è ancora. Sì. Ma poi si interrompeva puntualmente. Sei troppo giovane per capire queste cose. Diceva, anche quando Coniglietto aveva 16 anni, del resto né tu né nessun altro, potete fare niente. Figliava. Questi segreti mi riporterò dentro la torre. Ho voluto essere qui questa sera come insegnante innanzitutto e come segretaria regionale della Federazione Gilda Unas della Lombardia per testimoniare la vicinanza della nostra organizzazione agli insegnanti. Questi insegnanti stanno testimoniando, leggendo il loro libro preferito, leggendo un brano del loro libro preferito, l'impegno che gli insegnanti italiani hanno avuto e continuano ad avere per la crescita culturale dei nostri ragazzi e del nostro paese. Questo è un punto fondamentale perché ciò che è la riforma, ciò che è il disegno di legge Renzi mina è proprio la capacità degli insegnanti di essere intellettuali diffusi. La privatizzazione della scuola pubblica passa innanzitutto attraverso l'impiegatizzazione della funzione docente. Questi insegnanti hanno colto questa questione. Impiegatizzare gli insegnanti significa renderli esecutori passivi di direttive decise altrove. Significa impedire la crescita del senso critico. Il senso critico è ciò che ci ha salvato e ha permesso al popolo italiano di crescere e di emanciparsi. Il popolo è proprio significativo di uno stato di disagio che c'è nella scuola, un disagio che si percepisce a tutti i livelli, dagli studenti, i genitori, noi insegnanti. Io insegno da 33 anni, dopo 33 anni passare ad essere trattato come se fosse un insegnante di scuola privata dopo tre anni, mi possono licenziare dopo 33 anni, è qualcosa che penso che non piaccia più a nessuno. Questo è trasformare la scuola in una gestione privata, abolire il titolo di studio, e privatizzare quello che è il rapporto di lavoro, quando noi siamo stati assunti per essere proprio dei funzionari. Sono un docente e ne vado orgogliosa perché in questi quartieri difficili come il mio, Quartogiaro, Via Graf 74, ci vogliono docenti validi e che hanno voglia di lavorare e di fare e io faccio parte, non orgogliosamente, di questo corpo docenti. E queste scuole meritano docenti preparati, è vero, però non è giusto quello che sta accadendo. Renzi sta facendo una politica non per la scuola, ma per gli industriali, di economia, e invece di stabilizzare però da soldi alle scuole private. Le scuole private se ne pagino chi ha i soldi? Noi siamo la scuola pubblica, guardate che libro, non è un caso che ha questo libro, Pellac mi ha insegnato tanto e mi continua a insegnare. Lui si vanta di non essere stato un grande studente, uno studente studioso, ma ce l'ha fatto perché? Perché ha incontrato degli insegnanti grandi, validi, che gli hanno dato l'amore del sapere e della conoscenza, cosa che questi governanti non sanno fare. e però vogliono impedirci di lavorare, impedire a noi giovani di darci questo lavoro. Io pregresso la scuola di questo. E io vorrei dire una cosa a Renzi e al governo. Abbiamo avuto recentemente una sentenza europea che vorrei ricordare. Molto semplice, ha condannato l'Italia perché in questi anni ha utilizzato il personale come la sottoscritta con contratti su posto vacante per più di tre anni. E ha detto all'Europa, li dovete stabilizzare. Bene, cosa fa Renzi? Una legge contraria. Addirittura vuole impedire a chi ha più di 36 mesi di continuare a lavorare, proprio perché lo sa di essere intorto e lo sa che non ci può non stabilizzare. Quindi è una vergogna ulteriore. Begoia, 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 begoia. Begoia, 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 begoia. Begoia, 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 be Il dettato costituzionale la porteranno a zero, c'è un accordo con Confindustria, hanno fatto i conti perché è un risparmio, l'hanno spacciato per un investimento, ma è di fatto un risparmio. Andate a vedere, prevede il governo una spesa stabile per il 2016 che tenderà a diminuire l'istruzione, già siamo sotto la media europea, non investe un euro, sposta i soldi da una parte all'altra, investire si indicherebbe aumentare le risorse nell'istruzione per dare una migliore scuola ai nostri giovani e dobbiamo dirlo tutti come ha detto la signora. La Resistenza, un flash mob che è anche a livello nazionale e si chiamava Vestiti di rosso con un libro sul cuore oppure io amo la scuola pubblica. Allora, ognuno di noi ha letto un pezzo del suo libro preferito, io ho portatoci speranza, se questo accade al vo, che è di Mario Lodi, un maestro che è morto l'anno scorso. Di resistere e di continuare a sperare perché non è finita e comunque, come disse un politico che è venuto l'altra volta all'Assemblea, noi dobbiamo resistere anche se passasse il DDL, perché se siamo noi quelli che dobbiamo applicarlo e non vogliamo applicarlo, il DDL non sarà applicato. La prossima mossa è lo sciopero degli scrutini appunto, i rischi quali sono? Io penso che dovrebbe esserci un'adesione di massa come c'è stata per il 5 di maggio. Io ho portato The Picture of Dorian Gray, il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, io reputo che Oscar Wilde sia uno dei pensatori più moderni, in un'epoca in cui tutto era difficile affermare, lui è stato capace di, anche con sacrifici, è stato capace di affermare la propria idea di libertà. La Costituzione, il documento per eccellenza, per difendere i nostri diritti che sono scritti qui dentro, abbiamo la Costituzione più bella del mondo e la classe politica peggiore del mondo. Siamo qui per mantenere alta l'attenzione sulla scuola che in questo momento sta attraversando un tunnel, possiamo dire, che può portarla anche alla morte, alla dissoluzione. Ieri ho sentito Faraone e devo dirti la verità, ho provato indignazione, vergogna, vedendo da chi siamo rappresentati, una persona che ha culturato direi... E' mentato il DTL scuola, va ritirato. Il DTL scuola, va ritirato. Il DTL scuola, va ritirato.